Anticipazione una vita trama puntate 15 19 gennaio 2018 Celia sorprende Huertas e Felipe in flagranza Lunedì 15 gennaio 2018 Gli investigatori effettuano l'autopsia sul cadavere di Guadalupe e scoprono che la donna è morta per strangolamento Le domestiche intanto commosse organizzano la veglia funebre in soffitta Il medico della polizia sottopone Cayetana ad una nuova perizia psichiatrica per stabilire il suo grado di infermità mentale e soprattutto se la donna sta fingendo di essere pazza oppure meno L'uomo conferma a Teresa che la falsa Sotelo Ruz ha perso realmente il lume della ragione Mauro però non riesce a darsi pace Per lui la Dark Lady è sana di mente e sta soltanto prendendo in giro tutti per i suoi loschi scopi personali Nel frattempo i rapporti tra l'Ispettore e la Sierra si fanno sempre più tesi e Fernando sembra gioirne Martedì 16 gennaio 2018 Cayetana è finalmente a casa ma è completamente smarrita nel suo delirio mentale La donna poi si rende protagonista di una nuova crisi La Sierra nel frattempo convince il barone del poso a finanziare e approvare i lavori della scuola riuscendo così a mettere i bastoni fra le ruote ad Ursula che medita vendetta Per festeggiare il suo successo Teresa accetta di uscire a cena con Fernando Mondragon intenzionato a conquistarla Mauro intanto è molto triste Vorrebbe far partecipare Pablo ai funerali di Guadalupe ma non riesce a convincere del balle ad accettare la sua richiesta Celia mette alle strette Felipe portandolo ad ammettere la sua infedeltà L'uomo però la tratta molto male e si mette sulla difensiva Poi la donna scopre che suo marito ha perso una causa importante al solo scopo di proteggere Huertas Mercoledì 17 gennaio 2018 Il giudice Marquez dopo aver letto l'intervista rilasciata da Teresa contro Mauro vuole farlo espellere dalla polizia L'uomo inoltre è un caro amico di Fernando Mondragon Celia è disperata perché suo marito la trascura per passare il suo tempo libero con Huertas Hanno luogo i funerali di Guadalupe Pablo riesce a prendere parte alla cerimonia funebre In un sontuoso palazzo è in corso una festa molto importante indetta dal ricco colonnello Arturo Valverde Sua figlia Elvira medita di togliersi la vita gettandosi giù dall'edificio perché è incapace di sopportare le imposizioni della vita nobiliare Di lì si trova a passare un giovane di nome Simone che la dissuade dall'intento di suicidarsi puntando sull'ironia Tra i due è amore a prima vista Giovedì 18 gennaio 2018 Pablo, che in realtà è innocente è costretto a ritornare in prigione dopo i funerali di sua madre Il giovane è disperato così come lo sono anche Leonor e Rosina Mauro chiede un grosso favore a Teresa ritirare quanto affermato nella recente intervista Nasce una discussione tra loro sedata da Fernando che prende le difese della buona maestra Celia frugando nelle tasche della giacca di suo marito trova le chiavi dell'appartamento dove l'uomo è solito incontrarsi con Huertas e decide di appropriarsene La donna così segue la domestica di nascosto Proprio quando la Lopez è in procinto di abbandonarsi alla passione con il brillante avvocato qualcuno apre la porta della loro alcova segreta Con grande sconcerto Felipe si accorge che si tratta di sua moglie Arturo Valverde giunge a Caia Casias insieme a sua figlia Elvira Venerdì 19 gennaio 2018 Prima di lasciare il quartiere Rossini e Liberto hanno un sincero confronto La donna si scusa con lui per le accuse che ingiustamente gli ha mosso e gli confessa di essere profondamente innamorata di lui Il giovane la perdona ma è restio a ritornare con lei in quanto ha sofferto troppo Celia dopo aver sorpreso Huertas e Felipe in fraganza è distrutta Dopo aver esposto i suoi problemi all'avvocato Alvarez Hermoso Mauro è disposto a cedere a un tentativo di corruzione per non perdere il suo posto di lavoro e per non essere radiato dal corpo di polizia Teresa e Fernando passano una bellissima serata insieme Quando poi la maestra torna a casa ritrova Cayetana affacciata al balcone con un tagliacarte tra le mani La donna in lacrime vuole togliersi la vita per raggiungere Carlota e De Hermann Se il video ti è piaciuto metti mi piace iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti